radio fine anni 40 e dovrei ripararla come vedete presenta questo listello in bacherite danneggiato è una radio che riceve in onde medie onde corte e ha un po di problemi questa è la parte posteriore della radio come vedete ha una valvola danneggiata ha praticamente il cappuccio della griglia da sistemare si è staccato completamente però si può tuttavia riparare senza cambiare la valvola la parte interna molto sporca i cavi sicuramente sono da sostituire perché sono molto danneggiati molto rovinati e poi non sono a norme elettriche si tratta di una cg e cg e modello 175 c'è addirittura lo schema della disposizione delle valvole anche lo schema del trasformatore perché una volta le tensioni di rete potevano cambiare a seconda della regione italiana questa radio dispone delle uscite fono che praticamente l'uscita fono veniva utilizzata per collegare giradischi alla radio una sorta di amplificatore e in condizioni buone a un mobile che non è particolarmente danneggiato si può lucidare e ripristinare alla perfezione con questo vi saluto